Allora, il pretesto per questa discussione, mini discussione che mi appresto a svolgere con voi, è una mail che mi è arrivata ieri e che ho qui sotto gli occhi, molto interessante per il quesito che pone. Vi leggo le poche frasi che mi hanno mandato gli allievi. Mi dicono, siamo partiti dall'idea iniziale di un museo che ha come tema la pittura analizzata attraverso un percorso storico-culturale e collegato ad esso alcune sale interattive che comportano l'uso di vernici, tele e tutto ciò che implica la produzione di un dipinto da parte dell'utente. E di sale multimediale che utilizzano la tecnologia come metodo di pittura, tavole grafiche, touchscreen, ecc. Un'altra proposta è invece l'interattività come punto focale del museo e quindi creare di veri e propri laboratori con esperienze multimediali, accompagnati da brevi riferimenti artistici spaziando in tutto il campo della tecnologia, esperienze 4D, visioni 3D, uso di ologrammi, ecc. In sostanza, dicono i ragazzi, le due idee sono queste. Uno, progettare un museo a tema con sale interattive. Due, progettare un museo interattivo con tema. E concludono dicendo che le due cose sembrano uguali, ma in realtà non lo sono. Io sono d'accordo che le due cose sono profondamente diverse, anche se sembrano uguali e anche se possono essere uguali. E devo dire che delle due, quella che mi attrae di più è la prima. Perché il museo a tema è un'occasione, è un percorso, è una ipotesi già praticata ampiamente e quindi sperimentata e quindi con delle soluzioni esaustive da analizzare. In più, mi piace l'idea che parte di questo museo sia didattica, e sia didattica o sperimentale. Molto interessante, se la pensiamo per esempio applicata ai ragazzini, ai bambini piccoli, o se la pensiamo applicata alla terza età, o se la pensiamo semplicemente applicata come esperienza didattica di supporto ad alcuni percorsi formativi, licee o università stessa, diciamo che sembra un'idea molto interessante, molto intelligente, dinamica. Ma anche la seconda presenta delle notevoli implicazioni di novità, perché puntando il suo tema, il suo tema non è più la pittura, ma è l'interattività in quanto tema, in quanto fenomeno. Molto interessante, perché si lega a tutta un'esperienza innovativa, che è quello della capacità di scambio che esiste tra l'utente e lo strumento, il media che lui sta analizzando, quindi come lui può modificare il media e come il media risponde alle sue sollecitazioni. Questo è un altro tema, effettivamente i ragazzi hanno perfettamente ragione che le due cose sono totalmente diverse, anche se possono avere dei punti di confluenza. Vi ripeto, io dei due trovo più semplice il primo, è molto interessante, è molto fattibile. Perché? Perché si sposa molto di più a quello che è il concetto che adesso io voglio introdurvi. Io vi parlerò a lezione, e lo faremo tra poco, dopo che vi avrò fatto una serie di discussioni sul virtuale, del tema fondamentale del corso, che è quello del potenziamento dello spazio architettonico. E' il tema vero, diciamo, è che si applica bene a un museo, ma si applica anche a altre realtà progettuali. Che significa il potenziamento dello spazio architettonico? Che significa che lo spazio in quanto tale, in specie nelle esperienze educative, per esempio quelle di cui vi ho parlato adesso, che ci hanno, diciamo, sottoposti i vostri attenti colleghi, dopo dirò anche i nomi, diciamo, se noi analizziamo attentamente queste proposte, il tema fondamentale che esce fuori è quello del fatto che alcuni elementi che fanno parte di certe collezioni, per esempio nel museo, sono sì comunicativi per tutta una serie di loro caratteristiche, del loro status di immanenza, ma se opportunamente potenziati, cioè se opportunamente integrati con altre strumentazioni o altre riflessioni di tipo informatico, da verificare come inserire, da verificare come mettere dentro e così via, riescono a essere molto più eloquenti. E questo si applica molto bene al caso del museo. Ad esempio, se io ho di fronte un quadro di un autore, posso riferirmi al quadro autentico, ma posso anche avere uno schermo in dimensioni naturali, addirittura ingrandito, che mi dia una rappresentazione, un'immagine di rappresentazione di questo quadro in altissima definizione. Sostanzialmente le due cose sono, dal punto di vista mediatico, comunicativo, la stessa cosa, anche se dal punto di vista concettuale, culturale, artistico, sono tutte cose completamente diverse. Ora, il potenziamento dell'intelletto, il potenziamento dello spazio architettonico, che è un tema classicamente informatico, sostiene che io posso aggiungere una quantità in teoria infinita di informazioni all'oggetto che aumentano enormemente la mia capacità intellettiva, che aumentano enormemente la mia capacità di comprensione di tutta la storia dell'oggetto, delle sue potenzialità e questo in qualche maniera introduce al concetto di virtuale di cui vi parlerò in altri moduli e vi parlerò diffusamente a lezioni. Per tornare al problema che ponevano i vostri ragazzi, tutti e due i temi, così come loro li pongono all'anno opposto alla nostra attenzione, sono ugualmente validi. Però, mentre il primo è più tradizionale, perché pur utilizzando il potenziamento dello spazio architettonico dal punto di vista comunicativo, in realtà si occupa di un tema tradizionale, nel loro caso la pittura, ma può essere qualsiasi altro tema, appunto un museo elettrono-antipolografico, un museo contadino, un museo della carta, un museo delle tecnologie e così via. Il secondo invece ha come suo oggetto, come suo tema, proprio l'interattività e questo ne fa un tema privilegiato, ma assai complesso, da trattare oggi, che richiede una specifica conoscenza e approfondimento. Questa era la riflessione su quello che hanno prodotto i vostri colleghi, che sono, li dico subito, un attimo solo, sono il gruppo Dauria, Sabella e Villani. Grazie a loro per questa possibilità di discussione che ci hanno offerto.